Mi sono appassionato alla musica da bambino perché vedevo che i musicisti, meglio ancora i cantanti, stavano sul palco. A me piaceva stare sul palco da bambino, avrei potuto tentare di far l'attore, sarebbe stato lo stesso all'epoca. Mi sembrava che fosse possibile, e lo è effettivamente, fare il cretino e guadagnare comunque dei soldi. Poi è nata anche la passione per la musica vera e propria, a 11 anni ho scoperto il jazz, è stato proprio il primo amore importante. Suonavo in conservatorio Beethoven o Brahms che tuttora infatti non mi piacciono, invece quando appena ho potuto mi sono dedicato a Ravel, Gershwin, Poulenc, Prokofiev, Ginastera, tutti autori del primo novecento che sentivo più vicini, oppure piuttosto a Mozart, insomma, a casa da solo, per ora. Però a casa da solo suono un po' di mozzi. Il mio ultimo disco si chiama Arrivano gli alieni. È un disco registrato interamente da solo, non solo col pianoforte ma anche col Fender Rhodes e ci sono anche tre canzoni, perché da bambino io volevo fare il cantante, quindi adesso posso approfittarlo. Ciao, sono Stefano Bollani, sono qui a Barcelona per suonare al 47esimo Voldan Festival e con l'occasione sono venuto anche alle Furious Sessions, quindi fra poco.